è salito daaaah sono tutti dietro dopo eh hanno preso il camion davanti a noi ehm si da la aspettiamole minchia lo sei che cazzo dici cogliene cazzo ne tira tutto va dietro guardatemi da quello di sopra raga è sotto è sotto cazzo no quello sotto lo so ce ne ho uno pure sopra si buscia qua ne vedo uno un altro qua raccato anche quello che ti ho fingato buono oh raga un altro qua nemico non ho più colpi nooo io lo sapevo che veniva gente da la tre tre furtiamola cazzo non ho più colpi posso fare un cazzo ti posso venire a arrezzare fra bombardamento di precisione nemico al riparo non è l'unica ti vengo a arrezzare cazzo ne uno davanti ho venti colpi cazzo in avvicinamento attacco a grappolo nemico al riparo spara 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 non ce l'ho più no sono dall'alco fra cazzo in avvicinamento ci sei al compagno nel gulag se sopravvive può tornare in avvicinamento uno qua sotto a terra postile in discesa nell'area occhio in alto buona buona bravo buona io sono andato per arrezzare mi sono trovato direi davanti e ho potuto fare un cazzo si vabbè ma sicuramente ci sarà gente da si si la sento opp si